La provincia di Arezzo adotta un comune dell'Abruzzo terremotato per realizzare un asilo. Noi siamo passati dalla fase della prima accoglienza del primo soccorso che ci ha visto impegnatissimi da tutti i punti di vista, dal punto di vista sanitario e logistico, alla fase della verifica degli edifici esistenti, che è la prossima grande priorità, che ci vede organizzati in un campo a San Demetrio con una sessantina di verificatori che stanno facendo le verifiche sismi sugli edifici pubblici e privati. Adesso cominciamo a pensare anche alla fase della ricostruzione e questa iniziativa è importante di gemellaggio col comune di San Demetrio dove siamo già presenti, perché nel frattempo abbiamo realizzato una struttura provvisoria per ospitare i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie. Il nostro obiettivo sarebbe quello di realizzare una nuova struttura che possa ospitare l'asilo nido e la scuola materna e di ristrutturare l'edificio che attualmente ospita le elementari e le medie in modo da far rientrare tutta la popolazione scolastica di San Demetrio e di 10 comuni limitrofi all'interno delle proprie aule.